5 minuti con continua i suoi approfondimenti per conoscere i volti della campagna elettorale che si avvicina al termine in quanto domenica 26 maggio si voterà per rinnovare il consiglio comunale quindi eleggere il nuovo sindaco di Casale Monferrato. Oggi siamo con Federico Riboldi, candidato dell'area di centrodestra a capo di uno schieramento a titolo Casale in testa, composto da chi? Composto da Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e dalla lista civica difesa e ripresa. Abbiamo riunito tutto il centrodestra sulla mia candidatura più la società civile che con i suoi 24 nomi della lista civica difesa e ripresa unire per ascoltare ha voluto fornirmi un sostegno importante, soprattutto un sostegno di idee, un sostegno tecnico per quando ci approccieremo a governare la città. Ecco, oggi la comunità civile chiede ai candidati punti programmatici precisi e anche certamente molta concretezza quindi quali saranno i punti di maggior urgenza che in caso di vittoria Federico Riboldi si impegna a realizzare addirittura nei primi cento giorni? Noi abbiamo un grande vantaggio Claudio che è quello di aver riunito 96 candidati, quattro liste senza bisogno di passaggi dalle segreterie di partito, senza bisogno dei passaggi canonici che indicano un candidato sindaco. Ecco, abbiamo, devo dire, i miei alleati hanno da subito individuato nella mia figura la sintesi del programma politico Casale in Testa. Il programma è stato siglato da tutti i 96 candidati, si trova sul sito federicoriboldi.it, sono 29 pagine, c'è anche un indice quindi se qualcuno vuol guardare più i punti di interesse lo può fare e questo ci darà il vantaggio di avere un'unità di intenti già nei primi cento giorni di governo, dove noi vorremmo iniziare a cambiare Casale Monferrato. Nei primi cento giorni daremo il via alla pulizia generale della città, al rinnovo del suo arredo urbano perché mai come oggi la città è sporca e abbandonata. Immediatamente procederemo con il quoziente familiare, ovvero un metodo di calcolo dei tributi locali che consideri il numero dei componenti del nucleo familiare, che venga incontro alle esigenze delle giovani coppie con figli e delle famiglie numerose. E poi subito, subito, il lancio dell'Agenzia Municipale per lo Sviluppo del Monferrato. Un'agenzia di sviluppo di carattere europeo che consenta alle nostre aziende di restare a Casale dialogando con un comune amico e con dei manager, con degli interlocutori che parlino il loro linguaggio evitando così il problema che abbiamo vissuto negli ultimi vent'anni di aziende che scappavano non nel Far East o nell'Est Europa, ma semplicemente scappavano a Vercelli perché lì troviamo un interlocutore migliore di noi. Ecco, tuteleremo le aziende esistenti, ma tramite l'Agenzia dello Sviluppo, tramite i manager che nell'Agenzia di sviluppo opereranno, attrarremo nuove aziende perché valorizzeremo la nostra posizione unica con due caselli autostradali al centro del triangolo industriale e renderemo disponibili le aree edificabili a un prezzo calmierato perché la vera ricchezza non è vendere terreni ad alto prezzo per il comune ma fare in modo che lì vi si insedino delle aziende. Se questa politica fosse stata attuata negli ultimi vent'anni per fare tre esempi su tutti, Cerutti, Dimo e Amazon, l'ultima, non sarebbero le prime due andate altrove e l'ultima non avrebbe scelto un territorio a 20 km dal nostro che a livello logistico non ha nulla di differenza. La programmazione politica certamente non può essere soltanto intesa in carattere di urgenza ma richiede spesso anche periodi di studio, di approfondimento e quindi di realizzazione che sono decisamente più lunghi. Quindi quali sono per Federico Riboldi i punti che invece sono da intendere in realizzazione nel lungo periodo? Ecco, questa è una domanda molto interessante Claudio perché abbiamo detto cosa lanceremo nei primi 100 giorni però queste tre idee, tranne quella di tener pulita la città che non dovrebbe far parte del programma di un candidato sindaco, dovrebbe essere normale avere la città pulita, io spero di ripresentarmi agli elettori tra cinque anni e non dover dire di dover pulire la città, quello dovrebbe essere la normalità. Ma il programma sulle famiglie, l'agenzia di sviluppo del territorio, il programma di sviluppo turistico in unione con Asti e Alba per la valorizzazione del patrimonio unesco, le attività culturali di alto profilo che si vogliono proporre, il rilancio del centro storico e delle aree commerciali naturali. Abbiamo un centro storico che alle sei di sera è vuoto, che la domenica sera è terribilmente isolato. Ecco, il centro storico è l'anima della città, noi dobbiamo far tornare la gente in centro storico rispettando chi ci vive, io sono un abitante del centro storico e quindi ne sono testimone, ma i nostri locali devono lavorare, il centro storico deve essere vivo e non possiamo più vedere vetrine chiuse. Ecco, il modello molinari di Alessandria che è quello di calmirare i tributi a coloro i quali mettono a disposizione i negozi a un prezzo convenzionato, ha permesso in Alessandria che è una città profondamente in crisi rispetto a Casale, ha permesso di riaprire dei negozi e quello è il modello che vorremmo applicare anche noi. È davvero triste andare in via Roma e vedere nuove vetrine vuote e sapere che una quindicina chiuderanno entro fine dell'anno. Bisogna prendere provvedimenti seri e urgenti. Nel nostro programma abbiamo trattato ogni quartiere della città e ogni argomento. Abbiamo voluto approfondire in cento incontri con i cittadini le reali esigenze della città. È stata un'avventura entusiasmante che, come dicevo, ho vissuto gomito a gomito con i miei candidati, si è cementato un grande team, una grande famiglia possiamo dire. Ecco, avendo ascoltato tutti abbiamo idea delle esigenze reali. Sappiamo quali sono le ricette corrette per ogni tipo di settore della città e ogni frazione, ogni quartiere. Siamo certi che in cinque anni di amministrazione, che necessariamente dovranno diventare dieci, perché è un vero programma di mandato, si realizza in dieci anni, i risultati si vedono in dieci anni. Innanzitutto potremmo mettere il segno più al decremento demografico della nostra città che incombe. In trent'anni abbiamo perso diecimila abitanti. Potremmo mettere il segno più all'occupazione, ma soprattutto potremmo tornare a essere orgogliosi di essere casalesi. È una città bella, una città viva, una città al lavoro. Una città che offre opportunità ai nostri ragazzi e non costringe le nostre generazioni a emigrare altrove per trovare lavoro. Ecco, questo è il nostro primo obiettivo. Grazie per aver illustrato ai nostri ascoltatori i punti programmatici della lista e auguriamo a Federico Rivoldi una buona conclusione di campagna elettorale. Grazie Claudio, grazie per il lavoro che state svolgendo di informazione alla città. Vi invito tutti a visitare federicorivoldi.it, leggere il programma elettorale e alla mail casalintesta.gmail.com a mandare i vostri suggerimenti. Grazie e buona giornata.